Parlando ai ragazzi giovani che ci ascoltano, qual è un consiglio che gli daresti magari a chi vuole avere successo, chi vuole fare soldi? Qual è un tuo consiglio? Ma dici dal punto di vista lavorativo o social in questo caso? In generale, so che è una domanda molto generica, un consiglio che daresti a un ragazzo che si sta approcciando adesso all'impeditoria? Mi hai fatto una domanda che ieri mi scontriva e mi ha fermato un ragazzo ubriaco e mi ha detto come faccio a diventare ricco e famoso? Eh bravo! Io ho fatto un incantesimo, forse ce l'ho fatta. A segno, esatto. Dai la benedizio. Vai fratello, da domani sarei... Poi dopo sembra che può fare anche a me la benedizio. Però ecco, cavolo, non vorrei entrare in un discorso di frasi fatte. È facile, è facile. È molto facile. Però alla fine quelle sono. Però quelle sono oggettivamente. Io credo che se uno ha ascoltato bene quello che abbiamo detto fino adesso, riesca a cogliere delle piccole cose. Assolutamente. Come dire, non so, per esempio, no? Il discorso che è importante buttarsi nel mondo delle social se hai un'azienda. Passione, ossessione. Passione, ossessione. Non avere paura di metterci la faccia del giudizio della gente perché tu hai detto prima non ho haters, ma anche se io li avessi incontrati nel mio percorso sarei comunque andato avanti. Perché quando parti a metterci la faccia inevitabilmente arriveranno. E quello è una cosa che devi mettere in conto. Io quando mi interfaccio con, poi arrivo a risposta, con sia donne che uomini che stanno iniziando sui social mi dicono dammi quel consiglio. E la prima cosa che ti dico è, cavolo, di qualcosa, mettici la faccia. Puoi pensare a diventare famoso, virale, solo con delle foto per esempio, che non trasmetti nulla alla gente. Quindi mettici un qualcosa di tuo. Poi puoi essere odiato o amato, ma devi sbilanciarti. L'emblema più grande del successo di Gianluca Vacchi, citandone uno che ce l'ha fatto tanti anni fa, partendo da una base di ricchezza molto alta, è stata quella di metterci la faccia. Nonostante aveva un'età già avanzata, si è messo a fare i suoi balletti, giudicato negativamente perché dicevano cosa fai, sei uno vecchio. Eppure è arrivato a essere Gianluca Vacchi con 20 milioni di folle. Quindi dico, primo step è questo. Quindi ragazzi, metterci la faccia. Ovviamente non deve essere una cosa forzata. Quindi quando lo fate dovete comunicare un qualcosa che veramente vi appassiona, vi piace, perché poi lo trasmetterete all'utente finale. Perché se fate una cosa finta solo perché appunto adesso va di modo a fare il rapper, quindi ti metti a fare una canzone perché spieghi che come loro diventi famoso, non ce la farai mai. Cioè deve essere una cosa che ti viene da dentro. Sì, te stesso. Sì, te stesso. Questa è la chiave del successo, sicuramente, sui social. Lavorativamente parlando... Sì, a livello più imprenditoriale diciamo. Più imprenditoriale, invece sicuramente il mindset fa la differenza. Però qua mi diranno quelli che stanno dicendo, sì ho capito, però ragazzo tu sei parito con i milioni, è più facile. Sono oggettivamente d'accordo sul fatto che se si parte oggi, nel 2023, da zero euro sia veramente complicato. E non mi sento di poter dare un consiglio perché non avendo vissuto quella situazione lì, non saprei magari anch'io come uscire da questo ciclo vizioso mentale. Perché sei a zero e non riesci a vedere la luce. E' anche vero che a oggi, secondo me, quando parti da zero hai comunque più... Ci sono tantissime opportunità in più rispetto a magari... Toccando quel mondo che hai citato prima, dell'online sicuramente sì, ha tante sfaccettature. Esatto. Che puoi perlomeno evitare andare in fabbrica per i 10-200 euro. Magari non diventi milionario, però tirarti fuori lo stipendio ce la puoi tranquillamente fare. No, poi se posso dire una cosa a tuo favore, che te dici è facile, a me mi dicono io sono già partito... In realtà, secondo me, ci sono tante persone che nascono già con tanti soldi che ci mettono due secondi a bruciare patrimoni. Te invece sei uno che li moltiplica. Anche questo. E io penso che di questo tuo padre sarebbe veramente fierissimo. Grazie mille. Ma poi, cioè, non è un discorso al di là del patrimonio, eccetera, eccetera, ma tanti soldi, tanti problemi. Nel senso non è che è tutto rose e fiori o è facile investire perché tanti soldi. Si ritorna al discorso delle 17.000 persone in una discoteca di cui tu sei responsabile, no? Assolutamente sì. Sì, è bello. Però quanti a casa sarebbero disposti a tenersi sto peso? È vero, perché tutti poi vedono solo il livello. È tutto facile. Tante volte non si torna la notte. Di qua, di là. In certe situazioni bisogna viverle e bisogna anche essere onesti nel dire che, insomma, sono felici di avere questi problemi. Esatto, per me è attività. Certo, certo. Sono problemi belli. Esatto. Ovvio. Però magari la gente a casa non si rende conto c'è stata una… Parlavamo prima dei calciatori top, no? Sì. Vedono milioni e milioni. Sappiamo che il mercato del calcio è dopatissimo ormai a livello di inga. Però se solo quelli vengono scelti su milioni di persone è perché avranno qualcosa in più. Daranno una motivazione al club per dargli quei soldi. Cioè, quindi metteranno passione, dedizione, impegno. Cioè, sacrifici. Poi, certo, le cifre che prendono magari sono ingiustificate per noi, magari, insomma, comune mortali. Cioè, hanno attraversato la pandemia. Cioè, che vuol dire discoteche? Se noi due anni di chiusura ci hanno dato niente. Primi a chiudere e ultimi a aprire. Perché è il contatto. Eh, le discoteche sono state… Grazie. 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 Grazie.